I segnali di Forecast Cycles mostrano quali sono i titoli con più alto potenziale di generare un guadagno da oggi fino alla fine del mese. I titoli sono ordinati in questa classifica sulla base del punteggio calcolato dall'algoritmo di Forecast Cycles che tiene in considerazione la performance media, la volatilità attesa, la percentuale di successo e altre statistiche calcolate su ogni titolo. In questo caso, negli ultimi 10 anni, ad esempio, la performance media di questo titolo, Chase Corporation, che è il primo in classifica e l'indicazione suggerita è l'acquisto, la sua performance media è stata dal 2007 dell'11.3% nel mese di ottobre, mentre la percentuale di successo del 90% mostra che nel 90% dei casi questo titolo nel mese di ottobre ha chiuso in guadagno. Il massimo drawdown in un trade vincento, in questo caso alto del 22.9%, significa la massima perdita parziale che questo titolo ha avuto in un mese in cui poi ha chiuso in profitto. Sulla colonna di destra sono elencati i prezzi di partenza del mese, l'ultimo prezzo di questo mese, la performance di questo mese e lo stop loss e il take profit suggeriti dall'algoritmo di Forecast Cycles. Per vedere se un titolo che mi interessa è in classifica, ad esempio Apple, scrivo nella barra di ricerca Apple, in questo caso Apple è al 51esimo posto della classifica. Aprendo le analisi, mi fa vedere l'equity line che simula un investimento dal 1980 nel mese di ottobre di 10.000 dollari. Quindi se un investitore avesse comprato nel mese di ottobre 10.000 dollari dal 1980 e di anno in anno avessere investito i profitti, oggi nel 2017 il suo portafoglio sarebbe di 77.000 dollari.